Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, lascia stare, sono... non so i tasti che ho scambiato. Andiamo avanti? Ok. Sono povero, io non... Assurdo! Assurdo! Merda, ragazzi! Ma siete completamente pazzi! Siete completamente pazzi! Sì! Livello 12 dell'Hype Train! È un record assoluto e io ci tengo! Davvero... Merda, ver... Ma non lo so perché ho pagato il no, ma che cazzo ne so! ma che ti mando lo stream va let's go se cazzo non so ma chi cazzo è qua, chi sarà mai qua, ma chi cazzo che è qua mi scusi si regala 10 abbonamenti è stato infronto al record assoluto ha 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 i coglioni una settimana via un giorno un giorno via se vedo che uno non lo ha da un giorno su flash vuol dire che potenzialmente non ha dato la possibilità agli altri di poter prendere dei gold per le carte che avrebbe dovuto richiedere ergo non lo faccio mai questa volta devi chiedere o tagliate che cazzo di ciclo no ma quanto tempo di lotte time non mi fanno ma cazzo di chiedere le carte no è importante ma si chiama x durasmus minchia l'ho convinto terzo sesto Nettuno? ottavo guarda che Nettuno stai tenendo forte comunque a sui ritmi difficili eh si si cosa perché mi sono messo un bastone in culo in questo momento 67% mi manca il l'8% raga non è fattibile purtroppo non vinco per un minuto si si è fattibile ancora per tempo per 3 game start boom start boom start e nel tempo boom faccio una win prox giudere porco d'isi porco diaz eh lukiz io non mi chiudo troppo sincero cioè a me che so giusto che so sbagliate lo so che ci devo fare a noi ci piace la figa si io la adoro qua di nuovo scheletrini che stanno facendo un disastro letteralmente furia vediamo se la chiudiamo la chiudiamo la chiudiamo così la chiudiamo così la chiudiamo così arrivederci è stato un piacere it's a pleasure to play with you nice pulita così per subire i danni il golem davanti allora apriamo un attimino quello che dobbiamo aprire grazie brucoglione grazie deniz grazie deniz sincero non me lo aspettavo che frenassi sincero non me lo aspettavo che frenassi gg gg nice buone broccoli buonissimo ma guarda che bello avevo veramente fame questo mi riporta una bella mentality raga eh ci sta è cremosissima è cremosissima un roster mica da ridere nel clan deri che è incazzato pure eh ma c'ho anche quegli là in alto che sono belli incazzati li vinciamo le patate inerne non si preoccupi cioè credo mi un bacio posso fare molto male la pilota o rider o cristo per susso rider i pesi ops metto sono caduti dei pezzi di fatto su dai la prima di la pubblica me la pubblica dimmi dai cinque più di quello che mi ha scritto possibile in due ore e mezza in più però con la metà dei forse perché perché non avevo sentato le pubblicità del mese per quale motivo perché c'è il programma incentivi usa ma guarda che mi ha detto che non è work a me ha pagato a terzo penso e tu lo è ultimo veloci 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 me ha dato che si sbagliano 66 f vai 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 secondo posto merda sono un fenomeno a prendere i boost hai visto che roba ragazzi ma quanto quanto ho preso raga buongiorno donne grazie dei tre ho preso il 3 per cento per quale motivo msg sottolineatura den sottolineatura tre mesi ma non è che perché prendi anche i boost ti dà qualcosa in più non si può fare 11 11 per cento in non è possibile win 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 invece qualcosa di fattibile win secondo posto secondo posto torco ciao caro sei molto invidioso e lo so lo so che sei molto invidioso non ti preoccupare trovo modo per fartela passare perché non arriverai mai qua dove sono io continuo a morire nella tua invidia andiamo brucia è mentali di mentali t finalmente portiamo a casa una partita bagniamo pure moderazione per cortesia mi sembra magari sa ma no magari non sapeva che ma parli tu xuder dice putamadre 12345 si perché e guarda che la figa che ho legato ieri di tua madre e ragazzo come pensi che te li sei comprate le skin oggi nel negozio e i soldi che gli ho dato ieri ragazzo però di lì di lavarsi un pochettino quel bancale del pesce che c'è in mezzo alle gambe andiamo mamma mia anche proprio controllare la macchina in queste situazioni risulta complicato mamma mia raga undicesimo incredibile incredibile è troppo complicato bisogna davvero tenere tutti e tre i buste per per la parte finale ho perso l'uno per cento